Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Ben trovati al meteo. Pressione debole sull'Italia, sul nostro territorio il tempo risulterà a tratti instabile. Il dettaglio di sabato 3 giugno. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, specie nel pomeriggio. Aumenterà la probabilità di piogge sparse. Attenzione che sulla costa sarà più asciutto e localmente anche maggiormente soleggiato. Temperature con andamento irregolare, minime tra 14 e 18 gradi, massime tra i 24 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove anche in questo caso la giornata sarà instabile, sarà nuvoloso con locali rovesci, ma sulle zone costiere non mancheranno maggiori spazi di sereno. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 25 e 26 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il tempo si manterrà variabile. Qualche schiarita e soprattutto nella seconda parte della giornata avremo dei rovesci sparsi. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime comprese tra i 23 e i 25 all'incirca. Dal Meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, Atreviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Lolato, soluzioni per делare le NO Internatore. Grazie a tutti alle due voglia. Grazie a tutti.